buongiorno buongiorno al dottor claudio saracino da benessere ipnosi soluzioni l'ipnosi dcs vera professionale con la b maiuscola oggi sono per pubblicizzare quest'audio molto potente dal titolo super aura super energia quest'audio guiderà il tuo subcosciente ad ampliare a livello esponenziale per dieci volte più la tua ora la tua energia ad aprire i tuoi sette chakra ad assorbire l'energia positiva a vedere quello che tu fino ad oggi anche se ti sei esercitato esercitato con altre tecniche non ha mai provato perché le suggestioni dcs del dottor claudio saracino provengono da un antico sapere che ha quasi un secolo direttamente da los angeles baby hills da due grandi artisti dell'ipnosi vera professionale la dottoressa rina brunini il professor dottor miguel angel garai non devi credere devi fare e rinunciare ad una colazione al giorno per 30 giorno e 30 giorni e provarci non è nulla rispetto a ciò che la tua mente la tua ora la tua energia farà per renderti grazie centinaia di persone al mondo hanno utilizzato quest'audio e si sono meravigliati di ciò che non conoscevano istruzioni molto facili alla prova di un nonno alla prova di un pigro alla prova di un idiota per cui cosa aspetti immagina quando tu ti sentirai la persona più forte dal punto di vista energetico e tutto filera al liscio ti sentirai quella pace interiore che mai hai sentito e vedrà delle cose che mai hai visto e sempre a fin di bene e sempre a tuo vantaggio e per il bene tuo e per il bene dei tuoi cari sono a te la scelta d'accordo quindi clicca giù clicca su perché la mia associazione in progetti associati lo seggio sbevilsky gestisce gli audi mp3 dc se questo qui dal titolo super aura è un qualcosa di veramente eccezionale visita il sito internet www.ipnologiassociati.com la mia fan page su facebook ipnosi auto ipnosi del dottor claudio saracino iscriviti a questo canale youtube benessere ipnosi soluzioni di cesser dottore claudio saracino e faccia il condividi con amici e parenti perché può essere quel quid quella molla che gli può cambiare la vita per il bene proprio il bene dei propri cari e seguimi anche sulle altre socia instagram e twitter benessere ipnosi soluzioni di cesser del dottor claudio saracino un bacio un abbraccio e ricordati la tua mente può fare il miracolo della tua stessa mente alla prossima ciao